Mister Roteri, partiamo da quello che è successo al 96esimo, questa rete annullata a Ferrari. Sembra che il gol alla fine possa essere stato anche irregolare, almeno quello ci stava dicendo adesso a microfoni spenti. Sicuramente dalla panchina non ho avuto l'impressione che il Ferrari toccasse la palla col braccio, assolutamente. Ha portato via la palla con un colpetto di spalla e ha fatto gol, però l'arbitro alla fine ha fischiato appena la traiettoria partita. Secondo me voleva fare ripetere la punizione perché lui stava scrivendo, stava ammonendo un giocatore della fermana, stava scrivendo sul taccuino. Poi è nato il gol e lui a quel punto ritornare 50 metri indietro forse non se l'è sentito ma comunque ha fatto una topica purtroppo per noi clamorosa. Al di là di questo ci abbiamo provato in tutti i modi, si giocava poco a calcio perché pure era abbastanza normale. Fermana ha giocato palle lunghe, ha pensato soltanto a difendersi e andare sul contrasto, lo sapevamo. C'è stata la gara che lei pensava, aveva detto che sarà una gara molto fisica e così è stato. Io non sono dispiaciuto di quello che la squadra ha fatto, abbiamo creato tanto, è certo che ci è mancato l'acuto finale. Poche conclusioni nello specchio della porta? Poche conclusioni, molte rimpallate, ci abbiamo provato da 20 metri, ci abbiamo provato con gli aggiramenti, ci abbiamo provato con le percussioni centrali, ci abbiamo provato in tanti modi. Poche conclusioni, tante sono state rimpallate al muro difensivo ai 16 metri, non è che tiravamo da 50 metri, tiravamo sempre in porta dai 18, 16, 20 metri. Ci abbiamo provato in tutti i modi, è chiaro che se prendi il gol questo aumenta, poi loro sono rimasti in 10, ma differenze non ne ho viste tra quando erano in 10 e quando erano in parità numerica. Hanno soltanto tolto, gioco forza, un giocatore dietro, ma non ci sono mai spostati da lì. Però un tempo, Auteri, un tempo in superiorità numerica, bisognava probabilmente fare qualcosa in più. Ho capito, ma qualcosa in più l'abbiamo fatto, se la palla non è entrata, se abbiamo preso una traversa, se ci è mancato una spada giocata, è sempre stata in campo lucida, ordinata, ci ha provato in tutti i modi. Poi l'avevamo fatto il gol, guardate che la Serie C in alcuni momenti del campionato è questa, però magari Modena e Reggiana all'ottantesimo soffriscono di calci di rigore così, molto dubbi, no, invece ci viene sottratto. Io non è che voglio fare la vittima, per carità, però non voglio neanche parlare degli altri, sto facendo soltanto degli esempi, ma il gol di stasera era regolare, quindi la partita l'avevamo vinta. Tre partite, due punti, le ultime tre partite, due punti, Pescara che rallenta, sembra un po' di rivedere, Auteri, la squadra dell'andata, un po' balbettante. Non credo, ma voi guardate solo i risultati, ma guardate la partita che ha fatto la squadra, quanto un avversario difficile, rognoso, che ha rinunciato a giocare, che ha perso tempo, che ha spezzettato il gioco. Secondo tempo non si gioca, si gioca veramente, il tempo è dimezzato perché chi dovrebbe far rispettare le regole purtroppo non riesce a farle rispettare, quindi non guardate soltanto i risultati. E' chiaro che io sono il primo a essere deluso del risultato, ma non ho nulla da dire alla squadra, sono un pizzico di lucidità. E voto darebbe il Pescara di oggi? E anche un pizzico di buona sorte, ma non lo so, i voti si danno a scuola. Adesso c'è subito la gara di Pesaro, bisogna provare a tornare alla vittoria, perché il terzo posto si è nuovamente allontanato. Non lo so, ma noi pensiamo a giocare, sappiamo che le partite diminuiscono e che bisogna fare punti, però quando fai partite così, dove meriti di vincere e non ottieni il risultato pieno come quello con l'Entella, cosa devi dire? C'è poco da dire, è chiaro che ci sono sempre delle cose da migliorare, ma stasera la partita l'abbiamo vinta, quindi andiamo avanti. Però rispetto, non so se se l'è d'accordo, rispetto alla gara con l'Entella sul piano del gioco, un passo indietro, anche perché la fermana non è l'Entella? Ma non è, ma guardi che per giocare a calcio occorrono due squadre che si confrontano sul piano del gioco. L'Entella con noi l'ha fatto e ha subito, ma è molto difficile andare a prendere la palla sempre in aria, andare sempre sul contrasto fisico, un avversario che non si muove mai. E' questa, ma noi siamo sempre stati, nonostante questo, siamo sempre stati ordinati corali nella proposta del gioco. Abbiamo provato ad aggirare, abbiamo provato le percussioni centrali, abbiamo provato i tiri da fuori aria, ci abbiamo provato in tutti i modi. Non è che perché loro non hanno giocato, noi non abbiamo giocato, non abbiamo giocato una buona gara. Mister, sul gol di Cognini cosa non ha funzionato su quella punizione dalla tre quarti, quel batti e ribatti? Ma batti e ribatti, è stata una respinta, abbiamo fatto un fallo sciocco, hanno messo una palla, eravamo piazzati bene, abbiamo respinto questa palla fuori aria. E' nato questo tiro sporco che Sorrentino non ha trattenuto, io non so dire se fosse fuori gioco o meno. Non ha funzionato niente in particolare, perché la difesa ha respinto bene la palla, si è posizionata bene. Poi dopo a volte sono anche delle circostanze, però qualcuno dalla panchina mi ha detto che poteva essere fuori gioco, io obiettivamente non ho avuto questa sensazione. Mercoledì a Pesaro senza Ferrari, per chiudere Euteri? L'arbitro lì voleva far ripetere il calcio di punizione, poi ha commesso una topica e quindi ci ha fatto perdere anche un giocatore che era stato ammonito, a quel punto sanzionando un fallo di mano inesistente e annullando il gol, ha dovuto ammonirlo, quindi ha espulso Ferrari. Ironia della sorte, perché questo è proprio il colmo.